Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Nick908 Oggi raga vi ho portato una nuova canzone con l'organetto, lo spazzacamino Solamente che se volete che inizi col video dovete lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi su vari social che come di solito trovate nella descrizione Se siete riusciti a fare questo, entro 10 secondi inizio col brano Oppure mettete in bauta il video Ci siete riusciti? Ok, allora inizio Grazie Grazie Ci vediamo nel prossimo video, Bella Grazie